È dedicata alla critica d'arte Lara Vinca Masini, la mostra che verrà inaugurata sabato 10 febbraio alle 17 presso Casa Masaccio a San Giovanni Valdarno, con una proposta espositiva incentrata sul dialogo tra le arti contemporanee in Toscana. In questa mostra vediamo opere e documenti d'archivio collegati alla presenza di Lara Vinca Masini in Toscana, in particolare a San Giovanni Valdarno dove ha portato e realizzato una mostra nell'86. E i centenari di Lara Vinca Masini, ci sono diverse attività per questo in campo, incontri in tutta la regione, un convegno che ci è stato a Prata e Firenze, un'altra mostra al centro Pecci. La mostra che presenta opere di alcuni tra gli artisti selezionati nel 1986 dalla critica d'arte resterà aperta fino al 17 marzo. Abbiamo richiamato alcuni di questi artisti, in realtà non abbiamo ricostruito in senso stretto l'esposizione, ma abbiamo voluto dare un saggio di quello che era stato esposto. In alcuni casi anche, come abbiamo detto, aggiornando la cronologia, linguaggi diversi che spaziano dalla pittura alla scultura, quindi linguaggi più tradizionali, ma anche sperimentazioni che hanno coinvolto la musica, la performance e l'happening. Quindi in questo senso abbiamo voluto approfondire qualcosa che è sempre stata una sorta di vocazione naturale anche per Casa Masaccio e San Giovanni Valdarno e che abbiamo voluto rileggere anche alla luce di quel concetto che Lara Vinca Masini ha espresso già a partire dalla fine degli anni 70 e poi su cui più volte è tornata a riflettere che è quello della memoria del futuro, che è stato un po' il filo conduttore su cui sono state organizzate tutte le iniziative del suo centenario, pensando anche a questo come a qualcosa di profondamente legato all'identità culturale contemporanea di San Giovanni Valdarno. Per noi è sempre un onore ospitare il retrospettivo o comunque rassegne di questa natura che valorizzano figure che nell'ambito dell'arte hanno lavorato tanto, soprattutto sull'arte contemporanea. Oltretutto questa mostra è organizzata in collaborazione con il Centro di Arte Contemporanea Pecci di Prato. Grazie a tutti.